Ciao, sono il pinguino di Kinder Pinguì! Spuntini, merende, snack, belli, sani, nutrienti, ce n'è finché ne vuoi! Ma uno solo ha quel gusto fresco che si scioglie in bocca! Kinder Pinguì! Kinder Pinguì! Tutto il nutrimento di una merenda, con in più la fresca bontà del gelato! Kinder Pinguì! Latte fresco pastorizzato, pan di spagna e tanto buon cioccolato! Kinder Pinguì, nutre come una merenda, piace come un gelato! È l'ora della merenda! Merenda cercata, merenda trovata! Vieni! Cameriere trovato! Signor Pinguino, per noi il salito! La nostra specialità, Kinder Pinguì! Che gusto fresco! Si scioglie in bocca! Tutto il nutrimento del latte, un morbido pan di spagna in un guscio di croccante cioccolato! E contento l'acqua e contento anche la mamma! Non siete qui voi! E chiudere il frigo mai, eh? Kinder Pinguì! Nutre come una merenda, piace come un gelato! Nonna! Che la merenda? Chiamiamo il signor Gianni! Pronto? Dica tutto! Vieni po', ti vogliono la merenda! Ma buona veramente! Sì, col cioccolato! Che bella fresca! Che nutriente, mi raccomando! E poi? E poi arrivo io! Con Kinder Pinguì! Kinder Pinguì! Croccante cioccolato e latte fresco pasturizzato! Che gusto fresco! Si scioglie in bocca! Kinder Pinguì! Nutre come una merenda, piace come un gelato!